Vediamo quali sono le novità del pacchetto Google Suite Enterprise che riguardano Meet. Allora simuliamo che vogliamo invitare i nostri ragazzi a una lezione a distanza. Seleziono gli studenti che voglio invitare, copio il link che mi servirà per la riunione, ecco qua, e poi lo pubblico. Benissimo, in questo modo i miei due studenti hanno ricevuto il link con l'invito a partecipare alla chiamata. La prima novità è questa, lo sfondo sfocato. Allora, con questo pulsante che prima non c'era, vedete, io posso decidere che nascondo lo sfondo del luogo da cui trasmetto la chiamata. Questo impedisce un pochino quella intromissione nelle case che abbiamo vissuto durante la didattica a distanza. Quindi questa è la prima novità. Ok, ora io tolgo perché non mi serve. Benissimo. Clicco partecipa. Questo è il nickname della riunione. Io avrei potuto tranquillamente copiare questo nickname e darlo ai miei due alunni. Ok. Oppure avrei potuto da qua, aggiungi persone, invitare i miei due alunni. E' la stessa cosa, non cambia assolutamente niente. Andiamo a vedere che cosa è successo ai due alunni. Uno e due. Vedete, hanno ricevuto sia uno che l'altro l'invito a partecipare. Loro aprono la loro mail. Qui c'è il link. Basta che scrivano, clicchino apri. E' la stessa cosa, vale per questo. Apri. E sono all'interno della riunione. Benissimo. Entrambi vedono che io ho già aperto la riunione. Cliccheranno su partecipa. Partecipa. Perfetto. Adesso li rimettiamo un attimino a dormire. E poi ce li teniamo per dopo. Benissimo. Allora, come organizzatore della riunione, io ho delle funzionalità che prima non avevo. Quindi non solo la sfocatura dello sfondo, ma altre cose abbastanza interessanti. Se parto dai puntini che ci sono in basso, alcune funzioni sono rimaste uguali. Ad esempio, registra riunione. Se io clicco registra riunione, compare una scritta che mi ricorda che devo avvisare i partecipanti perché devo chiedere loro il permesso di registrare. E poi la riunione viene registrata e automaticamente, quando io termino la riunione, mi viene mandato in Drive il file con la registrazione. Poi ho questo interessante. Modifica layout. Questo prima non c'era. Allora, io posso decidere come voglio disporre... Allora, posso metterli qua. Posso tenerli in griglia. Ma soprattutto ho delle misure, per così dire. Io posso tenere una griglia minimo di sei persone, nove, sedici, trenta, quarantadue, fino a quarantanove. Questo è importante perché prima dovevamo ricorrere ad un'applicazione esterna che, a dire il vero, era della fine dell'anno, non funzionava neanche più tanto bene. Ed era difficilissimo riuscire a tenere sotto controllo le faccine di tutti i nostri alunni. Adesso invece, appunto, possiamo disporre il numero degli studenti che ci interessa, che nel nostro caso più o meno sarà trenta, e quindi riuscire a vederli tutti quanti all'interno della griglia. Sempre dai tre pallini in basso posso decidere che voglio disattivare la sfocatura dello sfondo. Va bene. Un'altra novità importante è quella che trovo in impostazioni. Allora, intanto elimina rumore, elimina i suoni diversi dalla voce. Quindi anche questo ci, come dire, protegge un pochino di più dall'ambiente esterno, specialmente se non utilizziamo una cuffia col microfono. Se vado sull'opzione video, io posso decidere di utilizzare una definizione un pochino più bassa, perché se siamo in tanti questo alleggerisce un attimo il carico. Ma la cosa importante è questo, controlli dell'organizzatore. Intanto controlli dell'organizzatore perché questa possibilità ce l'ha soltanto chi ha organizzato la riunione. Accesso rapido. Se io disattivo questa funzione, solo le persone invitate possono partecipare senza chiedere. Quindi io consiglio di tenerla sempre disattivata. Se qualcuno chiede di partecipare perché magari si è aggiunto dopo, perché magari ha un account diverso, eccetera, eccetera, compare la solita scritta che tizio chiede di partecipare alla riunione e io posso decidere se ammetterlo oppure no. Le persone non possono partecipare in modo anonimo, quindi viene fuori il nome di chi sta partecipando e solo gli organizzatori possono fare la chiamata di una riunione. Quindi io consiglio di tenerlo disattivato. Mentre consiglio di tenere attivato la possibilità di condividere lo schermo anche dei partecipanti e la possibilità che tutti possano mandare dei messaggi sulla chat. Questi controlli io li trovo sia qui in basso, sia in questo lucchettino, che anche questa è una novità, che compare qua. Vedete che io ho disattivato e qui rimane effettivamente disattivato. E ci sono le stesse voci che c'erano dove abbiamo visto prima. Ok, benissimo. Diciamo che inizia la riunione. Allora, da qua vedete che sono comparse delle scritte diverse, a parte l'orologio che prima non compariva sempre. Ma, allora, qui c'è il codice della riunione, l'elenco delle persone. Qui mi torna di nuovo la scritta controlli dell'organizzazione, in modo che sia più rapido accedervi, senza modificare lo schermo, senza aprire delle finestre sullo schermo. Poi c'è aggiungi persone. Io qua posso inserire un indirizzo mail e la persona riceverà l'invito per partecipare. Qui non è cambiato nulla. Questa è la chat e i miei alunni possono, i miei alunni o comunque chi è stato invitato alla riunione, può scrivere in chat quello che vuole. Novità, invece, è questo simbolino qua. Gruppi di lavoro e sondaggi. Questo è veramente, è veramente utile. Sondaggi significa che io posso, durante la lezione o la riunione, fare una domanda. Ok. Dare delle opzioni di risposta. Posso aggiungerne, ovviamente. I nomi e le risposte verranno registrati, poi veniamo come. Posso decidere di salvare questo sondaggio, in modo da non doverlo scrivere al momento. E poi, durante la riunione, quando mi serve lanciare il sondaggio, non faccio altro che aprire il pulsante di prima e cliccare su lancia. Qui io posso decidere se far vedere a tutti i risultati, oppure se tenerli solo per me. Vediamo che cosa succede se lancio il sondaggio. Andiamo a vedere i nostri due alunni. Vedete che nella schermata di uno degli alunni è comparso un pallino verde nella icona attività. Se lui apre, il pallino verde compare in sondaggi, clicca su sondaggi, si trova la risposta. Allora, ammettiamo che lui dica, preferisco il rosso, sceglie, viene avvisato che il suo nome e la sua risposta saranno registrati, e poi clicca vota. Immediatamente lui ha la conferma che il suo voto è andato a buon fine. Vediamo l'altro alunno, eccolo qui, stessa cosa, sondaggio, ovviamente gli facciamo rispondere blu, vota, ha votato. Benissimo. Chiudiamo, andiamo a vedere che cosa succede a noi che invece abbiamo creato questo sondaggio. Ecco qua. Noi e in questo caso tutti i partecipanti, perché abbiamo scelto di far vedere a tutti i risultati, vediamo subito, immediatamente, il risultato del sondaggio. Poi decidiamo che basta, abbiamo dato un tempo, termina sondaggio, da questo momento in poi al sondaggio non si può più partecipare. Questo è importante perché tutte le volte che magari occorre richiedere l'opinione per votare su qualcosa, abbiamo subito la possibilità di vedere intanto quante persone hanno votato, senza bisogno di andarle a contare, e immediatamente i risultati. Ma non solo, io potrei utilizzare questa funzione durante la mia lezione, anche per tenere vivo l'interesse di chi sta ascoltando. Finiamo la riunione. Benissimo. Allora, finiamo la riunione. Io chiudo tutto, saluto tutti. Vediamo adesso che cosa succede. Vado sul mio drive. Dopo pochi minuti, io ho un documento nuovo, che è questo qua. Sono cioè i dati del sondaggio che io ho fatto. Vediamo. Allora, ovviamente abbiamo fatto solo due domande e avevamo soltanto due alunni, però nome degli alunni, la domanda, le risposte. Quindi mi rimane traccia del sondaggio fatto. Se io avessi registrato la riunione, in drive avrei trovato anche il file della registrazione. Quindi questo mi permette anche di tenere un'ulteriore traccia dei lavori che io ho fatto o, ancora meglio, se c'è stata una votazione, io ho un documento che attesta chi ha votato, che cosa ha scelto, quando questo è avvenuto. Quindi, in fondo, è una traccia ufficiale di una attività svolta. Ecco, un'altra cosa dal punto di vista didattico interessante è, oltre ai sondaggi, i gruppi di lavoro. Allora, praticamente io cosa posso fare? Posso distribuire i miei alunni o comunque chi sta lavorando nella stanza principale, la stanza è il luogo dove si tiene la riunione, li posso distribuire in altre due stanze di lavoro in modo che possano lavorare contemporaneamente senza disturbarsi fino a quando io non deciderò di farli rientrare nella stanza principale. Io posso distribuirli casualmente utilizzando questa icona o posso decidere io in quale gruppo mettere i partecipanti. Creo queste stanze. Vediamo che cosa succede dal punto di vista dei nostri alunni della classe prova. Allora, apro il primo, apro il secondo, vedete che compare una finestra che chiede, anzi, che chiede, che informa che stanno partecipando a un gruppo di lavoro in un'altra stanza. Questo nella stanza di lavoro 2, quello nella stanza di lavoro 1, non devono fare altro che cliccare su partecipa. in questo modo nell'icona in alto c'è il numero della stanza dove stanno lavorando e la possibilità ovviamente di ritornare in qualsiasi momento alla stanza principale quando avranno finito il lavoro o sarà scaduto il tempo. Posso tramite questo pulsante decidere di modificare il gruppo di lavoro perché ho cambiato idea e poi posso invece con un clic su questa icona stabilire che basta, il lavoro è terminato e quindi tutti devono rientrare nella stanza principale quindi anche quei ragazzi che magari non hanno guardato l'orologio. In questo modo tutti rientrano nella stanza principale e i gruppi sono terminati. Sempre dal punto di vista didattico un'altra cosa nuova che prima non c'era è la possibilità di aprire una lavagna Jamboard. Jamboard è uno strumento che c'era già nella piattaforma di Google Suite e si poteva aprire anche prima però diciamo che il percorso era un pochino più lungo e più tortuoso invece adesso io posso cliccare direttamente sulla scritta e mi si aprono due scelte o avvia una nuova Jamboard e quindi cosa succede che cliccando lì mi si apre la Jamboard dopodiché io la uso tranquillamente come faccio quando mi collego alla LIM e posso utilizzare tutti gli strumenti. Benissimo. Posso condividerla con la classe ma vedremo che non è necessario oppure la seconda possibilità è di andare a prendere dal mio drive ecco vedete qua c'è già il link che viene automaticamente dato ai ragazzi ecco perché non è necessario condividerla perché loro riceveranno comunque il link. Dicevo posso aprire il mio drive e scegliere una Jamboard che magari avevamo già cominciato e continuare a lavorarci questa qui è quella che abbiamo preparato prima infatti se io vado a riaprirla si vede che è quella che abbiamo utilizzato come esempio. Bene mi sembra di avervi detto tutto e non mi resta che augurarvi come sempre buon lavoro e sperimentate.